Ciao, siamo in compagnia di Rebecca Piva, una giovane bolognese promessa di questo sport, che quest'anno si è trasferita per andare a giocare in B2 nel Ligor Volley Novara. Come sta andando con la nuova squadra? Con la nuova squadra siamo subito integrate e con l'allenatore ci troviamo tutte bene, stiamo lavorando in vista del campionato e stiamo facendo amichevoli durante la Coppa Piemonte e penso che continuando ad allenarci potremo migliorare tutte. Sapendo che sei figlia d'arte, perché il papà è stato campione d'Italia con lo Zinella e la mamma con San Lazzaro, com'è nata la tua passione per la pallavolo? Sicuramente me l'hanno trasmessa loro, fin da piccola mi hanno indirizzato verso questo sport e a sei anni mi hanno iscritta per la prima volta al club e da lì ho iniziato a giocare. Riguardo questi mondiali, pensi che l'Italia possa raggiungere un buon risultato? L'Italia è sicuramente una grande squadra, compatta, con degli elementi singoli molto forti, quindi penso che potrà raggiungere grandi risultati. Grazie mille e bocca al lupo per tutto!